Il Signore sia da voi, e con il tuo spirito. Signore Gesù Cristo, degna di benedire questo pane, come benedetto i cinque panni del tesoro, e concedi a quanti se ne cimperanno con fede, di ottenere l'intercessione di Sant'Antonio di Pado, soccorretore dei poveri, di essere sempre fortificati dal tuo aiuto, per Cristo nostro Signore. Amen. O Grande Santo, chiamato puremente il Santo di Paolo, ma devi essere denominato il Santo del mondo, perché non in terra si vuole il vostro merito e tante altari si alzano il vostro nome, quanti sono i cuori degli uomini. De non sdegnate ricevere anche i piccoli frutti delle vere emozioni e d'accordo che sotto il vostro patrocinio. Voi, che di frequente stringeste nelle braccia che c'ereste bambino e me la costaste al seno. ne conducevo in questo mio cuore, dove più volte lo scacciato mi cambia, ma che non parta mai più, dandemi perseveranza in servito e in gratitudine in riamanda. Per Cristo nostro Signore. Amen. Noi svegliate il Signore della vostra vita, andate in pace. Prendiamo grazie a Dio. Prendiamo grazie a Dio. Prendiamo grazie a Dio.